Per alcuni la vera grande minaccia per l'America I cartelli della droga rappresentano un pericolo reale e attuale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Viene da altre nazioni Per altri la vera grande minaccia per l'America La linea d'azione che suggerirei è la linea d'azione che non posso suggerire Viene dall'interno Siamo sull'obiettivo, a quanto pare abbiamo la nostra piccola guerra personale Harrison Ford è Jack Ryan Ho nominato Ryan vice direttore delle informazioni Ho detto chiaramente che il nostro appoggio è limitato a consulenze e rifornimenti, senatore Lui non ne sa niente, Poppy Niente truppe, allora Niente truppe Non deve sapere niente E non sarà niente Le leggi che deve far rispettare sono in pericolo Trenta persone sono rimaste uccisi in un'esplosione avvenuta un'ora fa Doveva essere un'operazione chirurgica Ho visto un bambino estratto dalle macerie in televisione Perché mi avete tenuto fuori? Per te ogni cosa è o bianca o nera Non bianca o nera, Rick Giusta o sbagliata È in gioco l'onore che egli è deciso a difendere Ho paura che se scavo più a fondo a nessuno Piacerà quello che trovo Vuoi sapere tutto sui metodi di Washington? Quattro parole Guardati le spalle, Jack Sta arrivando Senza scorta Una volta eliminato Ryan si riparte Tratto dal romanzo in testa le classifiche dei best sellers Ci sono le truppe Io non lo sapevo, lo sai che non lo sapevo? Harrison Ford Sei andato al congresso e hai ottenuto i fondi per agire Sei andato al congresso e hai mentito sotto giuramento? Io non ho mentito Sì invece William Dafoe Vengo ad ammazzarlo Anne Archer Stai andando via papà? Stai attento E James Earl Jones Tu hai fatto un giuramento Tu hai dato la tua parola al popolo degli Stati Uniti Chi ha dato l'autorizzazione? Credo che quella cosa debba sparire Allora bisogna farla sparire Non lascerò che lei disonori la loro memoria facendo finta di non entrarci per niente Come osa venire in questo ufficio e abbaiarmi contro come se fosse un cane randaggio? Sono il presidente degli Stati Uniti Come osa lei, signore? La Paramount Pictures presenta Sotto il segno del pericolo